Irene esperienza con le grandi come ti stai approcciando a questa nuova realtà questo nuovo campionato di Serie B1? Allora sono molto contenta di poter partecipare a questo campionato è il mio primo anno nella pallavolo dei grandi come appunto hai appena detto anche tu e non vedo l'ora di cominciare per adesso mi trovo molto molto bene sia con l'allenatore che con le compagne e non vedo l'ora di incominciare il campionato per dare il mio contributo Sicuramente siete una squadra giovane ma poi come dicevamo anche con Serena Zingaro le giovani portano entusiasmo un po' di spensieratezza alcune partite con la spensieratezza si sanno anche vincere come vi state integrando ecco queste due diciamo entità chiaramente in un gruppo nuovo questo gruppo di voi molto giovani e le ragazze più esperte Mi piace molto poter condividere un'esperienza con le ragazze più grandi dalla quale posso imparare come appunto Serena Zingaro che ha un passato importante e prenderò molto spunto da loro per poter raggiungere gli obiettivi della società E allora dacci un po' quello che invece è il tuo obiettivo personale per questa stagione Sicuramente vorrei ritagliarmi una parte importante all'interno della squadra per poter aiutare sia l'allenatore ma le compagne nei momenti di difficoltà sperando di poter contribuire oltre che in prima linea anche in seconda linea per dare una mano alla squadra L'orirene in bocca al lupo e buona stagione Crepi grazie mille